Buonasera e benvenuti in una nuova puntata del processo alle coppe. Sarà una serata veramente clamorosa. Oggi è successo di tutto. La Juventus ha esonerato Sarri e ultima ora. Nuovo allenatore bianco e nero Andrea Pirlo. Attenzione a tal proposito CR7 ha appena pubblicato un post su Instagram piuttosto interessante. Ve lo racconteremo e entreremo anche negli ottavi di Champions League con la voce di Gianluca Vigliotti che ci racconterà minuto per minuto Barcellona-Napoli. Siamo carichi Maurizio Viscardi? Sì, siamo molto carichi. Noi andremo a presentare... Carichissimi, buonasera e benvenuto a Ezzi Marina. Benvenuto anche a Paolo Marcello. Ciao ragazzi, buonasera. Beh, buonasera anche a Simone Barco. Buonasera Marcello, ti vedo un po' cupo in volto. Naturalmente tra pochissimo vi daremo le formazioni. Due minuti in linea alla regia. Pubblicità, rimanete con noi. La partita del Napoli sta per cominciare. Barcellona con i due centrali. Due minuti dopo la pubblicità andiamo ad ascoltare quello che ha affermato proprio qualche ora fa. Andrà Pirlo. Rimanete con noi, pubblicità. Ciao eh. Vediamo subito a Napoli affinché Gianluca Vigliotti ci racconti quello che è successo. Tre occasioni per il Napoli, già Gianluca. Salutiamo giusto per pochissimi minuti di... Ma 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 è venuto a fare soltanto le facce stasera. Pubblici! Perché non è stato muto parati. Ci abbiamo anche le sue parole. Tra pochissimo ve le facciamo ascoltare. Pubblicità, rimanete con noi. Solo 21 minuti di gioco per Barcellona-Napoli. Quindi io do la linea subito a Gianluca Vigliotti affinché ci possa aggiornare sul corso della partita. Gianluca a te. Però aspetta, aspetta. Prima di andare... Gianluca anche perché dobbiamo farvi vedere questo confronto proprio grafica tra Pirlo e Zidane. Dopo la pubblicità rimanete con noi. Dobbiamo andare subito a Napoli perché me si è risegnato però forse ha annullato il gol Gianluca. Poi andiamo in pubblicità Gianluca. Sembra che la sfiori un po'. Faccio qualche minuto di recupero tra poco. Se che erano molto... Nell'intervista non è che può andare lì. Prima di andare in pubblicità volevo capire da Gianluca Vigliotti come fosse la situazione. Le squadre stanno rientrando in campo. Ale! Ale! Grazie. Stanno rientrando in campo, noi ci fermiamo per due minuti. Attenzione, messaggio molto importante da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Ciao! Andiamo subito da Gianluca Vigliotti affinché ci possa raccontare questi primi minuti di gioco del secondo tempo. Primo tempo, recupera ancora palla in Napoli. Cosa facciamo, Vittoria? Allora, visto che stiamo parlando di Napoli, palleggiamo sulla Juventus. La nostra postazione di redazione è sempre pronta, attenta sul pezzo. A tal proposito, Buffon ha appena pubblicato un post inerente proprio al nuovo mister, Federico Bertone. Che erano circolati. Cioè, se anch'io avessi come frate scuola, avevi fatto un'altra domanda prima. Ci arrivo, dopo la pubblicità, per la prossima. Ripartiamo da te, anche voi rimanete con noi per scoprire la risposta di Marcello Chirico dopo la pubblicità, tra poco. Stiamo di nuovo insieme, Gianluca, è successo qualcosa che ci devi segnalare in questo piccolo sacco pubblicitario? Cavigliotti, così poi dopo chiudiamo e andiamo in pubblicità. Gianluca, te la linea. Di fare un intervento così interessante, invece, non ve lo vado. Non ve lo vado, non ve lo vado. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi, anche perché finiamo di raccontarvi Barcellona-Napoli. E poi dobbiamo ancora parlare tanto di questa Juventus quasi nuova, ecco, l'allenatore nuova e quant'altro. Rimanete con noi. Attenzione, altra occasione gol per il Napoli, che però non riesce a concretizzare, Gianluca. Il tempo c'è, ma è anche... Ci deve aggiornare sempre in ambito Juventus, Federico. È giorno di calcio. Se oggi ci dividiamo tra Napoli-Juventus, ultime ore, Gianluca a te. Vai Gianluca. Tutto per tutto, noi ci fermiamo per due minuti, lì nella regia, rimanete con noi. Vi racconteremo la chiusura di Barcellona-Napoli. A te. Il Napoli ci prova, ma non riesce a finalizzare, Gianluca Vigliotti. A te. E allora, andiamo subito, come stiamo facendo... Tutti lì nella regia, rimanete con noi, commentiamo ancora a caldo questo Barcellona-Napoli e poi tanto sulla Juventus con nuova allenatore in panchina, tra poco. Siamo reduci dalla sconfitta del Napoli, a tal proposito andiamo subito da Bertone per vedere il tabellone di quello che sarà la Champions, il calendario, le partite che ci aspettano. Anche un qualcosa. Dopo la pubblicità ve lo mostriamo e lo commentiamo, a tra poco. Vi abbiamo promesso che vi avremmo fatto vedere il rigore dato alla Juve. Ogni promessa è debita, ma l'accantoniamo, perché adesso andiamo a concludere il discorso Pirlo. Federico Bertone, così magari ci dà dei dettagli maggiori sul suo contratto. Dopo dopo, perché dobbiamo fermarci. Il parere di Gianluca Vigliotti, rimanete con noi per scoprirlo. Ah, e prestate attenzione, spot molto importante da parte del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare. Ciao, ciao, ciao. Naturalmente nel post partita di Barcellona-Napoli si è anche pronunciato Mister Gattuso, quindi andiamo a scoprire quello che ha dichiarato da Federico Bertone. Sì, in realtà sta ancora parlando Gennaro Gattuso. Ci salutiamo per due minuti. Imprecando verso, non si sa quale entità, forse verso la Champions, che non ha passato la sua Juventus. La risposta dopo la pubblicità, tra poco. Per forza Federico Bertone, finché ce le sveli. Federico. Sì. Ci siamo giunti alla conclusione della nostra trasmissione, quindi ringrazio Gianluca Vigliotti per averci raccontato minuto per minuto la partita di questa sera. Grazie. Un saluto anche Simone Barbato. Ciao, ciao. Buonanotte. Su Biscardi ci vediamo lunedì prossimo a 20.45 con il processo alle coppie. Agli ordini. Grazie per essere stati in nostra compagnia e grazie anche a tutta la redattina di Settegold. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie.